In Italia, oltre 12 milioni di donne tra i 18 e gli 84 anni pari al 51% del totale hanno riferito ad essere state vittime almeno una volta nel corso della propria vita ad un episodio di violenza fisica o psicologica, ma solo il 5% ha denunciato l'accaduto. Il dato emerge dallo studio IPSAD dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, che nel 2022 ha coinvolto 5.000 residenti in 100 comuni, oltre 2 milioni e mezzo le donne che riferiscono situazioni di violenza psicologica e 80.000 quelle attualmente vittime di violenza fisica.